Niente da fare, anche il presepe vivente di Leville Monterchi ha alzato bandiera bianca. L'edizione del 2020 è stata annullata, era nell'aria, ma l'emergenza Covid ha costretto a rimandare tutto all'anno prossimo. Gli organizzatori non hanno fatto altro che adeguarsi alla situazione, come conferma Claudio Casacci, che è il regista della manifestazione. La pandemia purtroppo non ha fatto sconti eppure la nostra associazione quest'anno non potrà allestire l'edizione 2020-2021 del presepe vivente. C'è grande rammarico, sottolinea il vicepresidente Marcella del Gaia. Certo, con molto dispiacere, ma questa è una realtà. Tuttavia potrebbe esserci una sorpresa, come conferma Vincenzo Rossi. Sì, qualcosa faremo durante le festività natalizie per fare in modo che il presepe vivente, l'associazione soprattutto, sia sempre presente. Purtroppo questa pandemia non fa sconti. Faremo quello che ci sarà consentito di fare in questa situazione. Sorpresa che potrebbe maturare la notte di Natale. Pensiamo sicuramente forse a una scena legata alla natività. E' importante in questo periodo dare un messaggio di rinascita. Rinascerò, rinascerà è stato anche il titolo di un pezzo importante in questo periodo Covid.